Don Maurizio Patricello, parroco a Caivano, al Parco Verde, è una situazione estrema, una periferia, come si definiscono. Magari però il corpo di Cristo si trova di più nelle periferie. Il corpo di Cristo si trova dappertutto, l'Equarestia è uguale in ogni Chiesa, in questo Tempio bellissimo, stupendo, eccezionale e anche nella più sperduta cappellina delle nostre periferie. E poi il corpo di Cristo si trova quando noi ci vogliamo bene, quando i Suoi figli si vogliono bene e realizzano la presenza di Dio, la presenza di Cristo in mezzo a loro. Certo è stupendo venire qua a vedere che cosa di bello è stato capace di fare l'uomo. Nel mio libro, verso la fine, io dico proprio, ho desiderio di bellezza. Ecco, vieni qua e ti si riempie il cuore, lo spirito, la mente, è tutto bello. Dobbiamo imparare a fare le cose belle. Il corpo di Cristo si trova anche combattendo insieme una buona battaglia. Dobbiamo combattere la buona battaglia della fede, la dobbiamo fare tutti. Certo, noi in periferia di Napoli, là ai confini con la provincia di Caserta, ci troviamo a combattere una battaglia forse superiore alle nostre forze, anche per la quale non eravamo preparati. Diciamoci la verità, io stesso non ero preparato. Però il Signore ci va indicando la via. Ci basta un passo solamente, un passo che venga illuminato dalla fede, anche dall'intelligenza che il Signore ci dona e poi il resto pian piano ci mettiamo nelle sue mani e Lui ci va indicando la via. Abbiamo compreso che dovevamo cominciare questa battaglia per la nostra gente, per il diritto al respiro, alla salute, all'ambiente e lo stiamo facendo. Tantissimi bimbi nella terra dei fuochi sono passati dal seno materno alla chemioterapia. Don Maurizio, quanti altri bambini, quante altre mamme, quanti altri uomini e donne dovranno morire prima che lo Stato intervenga? A me sembra che le istituzioni ormai si sono accorti della terra dei fuochi, però la risposta è sempre lenta a questo successo mediatico che c'è stato in questi due anni, da quando a venire è sceso in campo, proprio mettendoci in prima pagina un giorno sì e un giorno no, e poi sono arrivate in campagna le televisioni di quasi tutto il mondo. Ci si aspettava una risposta più concreta, più forte, più massiccia, invece non c'è stata, dobbiamo dire la verità. Ma noi continuiamo a fare il nostro dovere proprio perché le istituzioni si possono svegliare da questo sonno della ragione. In fondo avvelenare l'ambiente è un tradire l'uomo e che sono arrivato a questa conclusione e non parlo neanche più di inquinamento, io parlo sempre e solamente di tradimenti. Allora quanti altri bambini dovranno morire? Ne moriranno ancora tantissimi se non arriviamo subito e se arriviamo subito già arriviamo in ritardo. Grazie.